c'è la terrazza della questione, ora fiammo su The Joy of Creation Reborn ma nonna, quando ho fiatto ho perso il titolo di questo gioco questo qui sarebbe Flandon Freddy, ma che bello che è ok, un gioco bello, molto simile ad Outlast soltanto la grafica è 100.000 volte meglio Outlast è un fine Freddy's un po' strano, è un po' fine Freddy's in 3D vedo Bonnie, Foxy e Chica, dov'è Freddy poi? però sì, però è una cosa per ricapirlo, ma... per capire, perché sono dei strani rumori? che figata, posso spegnere la torcia? meglio di fare dei Freddy's allora ragazzi questo gioco è un gioco strano, allora c'è un Freddy qui, devi scappare da lui, devi farti prendere da lui tanto io sto facendo così da mezz'ora cos'è stato? però no, non ho visto qualcosa, no, 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 no perché io scelgo i giochi e poi li faccio, perché? perché io sono masochista bello bello cos'è quello? scappa scappa cos'è quello? terrezza cos'è? vaffanculo 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 lui era lontanissimo com'è fatto a vederlo da lontano? nonia ragazzi, ma cos'è sto gioco? sto gioco è il male Ma se qui stanno fuori, come è possibile che mi vengano uccidere i torrenti, però fuori stanno Bonny, Chica e Foxy? Freddy! Ma come fanno a vedere i reti da lontano? C'è il reti, lui è da lontano, è bellissimo, io non vedo un cazzo da lontano, ma dove devo andare? Accendi sta luce, dove vado, ragazzi? Corro, corro, le parti sono sempre le stesse, dove... Ho seminato? Ragazzi, io vado avanti, avanti, avanti in queste stanze, ma dove devo andare? Ma c'è una fine, c'è una fine, dove devo andare? Direzione Direzione Dove cazzo è finito? Adesso, ci sono... ci sono due direzioni, devo scegliere il ruolo di queste due, e in una di queste due ci saranno sperati che mi stanno aspettando Stanno già preparando forchetta, coltello e babaino Dove caspita è? Dove vado? Di qua, di là, di qua, di là, dove vado? Madonna mia... Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ready? Ready? Fantasma? Fantasma, dove sei? Rattima! Eh, che male cosa si deve far in questo gioco! Ready, ehm.. ti consiglio un bel pepe! Ascoltami bene, fratti Ti potrete leggermente denunciare Perfetto, mi hai fatto prendere due infarti di seguito Ok, grazie a questo gioco che lo voglio ammazzare Ragazzi, ma non è finito il gioco Dove devo andare? Continua ad andare in stanza, in stanza Sono sempre le stesse Dove devo andare? Ok, ragazzi, ho letto alcune cose su internet Su cosa si dovesse fare qui E ho letto che devo seguire Freddy Intanto te lo vado a trovare Adesso qui Adesso qui prima Allora ragazzi, ho letto che primamente Quando Ah, ma ha delle luci Ragazzi, ho capito come fa a vedermi Perché ha delle luci Se lo seguo, allora posso vincere Però devo fare il piano Non devo farlo sentire da lui Ma da sé? Avete pensato di tipo Fare dei Freddy's 3? Appena ho finito la promanotte E Shadow No, parco il Freddy Mi porta in quella stanza Sembra la stessa cosa Devo però aspettare che se ne vada Perché se ne vada Io ho aperto Dove cazzo è? Dove è finito? Eccolo qua Oh, aspetta amico Non c'è mai C'è raggiungerti Sta funzionando Sta funzionando Ma quando vuoi lento? Mi pare che questo qui Non mi ha visto nemmeno C'è scritto che se con il sequillo Allora posso vincere Ragazzi, c'è luce Qui c'è luce Cosa? E' un bug questo Un bug Dove? No, no, no Beh ragazzi, basta Ci ho provato Allora Ragazzi, se qualcuno vuoi Potrebbe dare dei consigli Allora, grazie Perché non ho capito Cosa devo fare Vabbè, se è piaciuto Mi piace Comandate Ciao, gente